Si concluderà oggi pomeriggio da due giorni della prima campagna vaccinale attivata presso il comune di Loreto a Prutino e dedicata agli ultraottantenni tutti residenti nel centro vestino. Le dosi del tipo Pfizer-BioNTech saranno somministrate a circa 250 anziani, i quali dovranno effettuare il richiamo a 21 giorni dalla prima iniezione. Non appena saranno disponibili altre dosi di vaccino, fa sapere il sindaco Gabriele Starinieri, verranno chiamati gli altri cittadini regolarmente registrati sul portale sanitario regionale. La gente ormai sente tanto parlarne di vaccini e quindi iniziare oggi, di fatto oggi e domani è la prima tranche degli ultraottantenni, 256, più saranno vaccinati 20 carabinieri questa sera e 20 domani. Da sindaco non venirò mai di ringraziare la PAV ma a nome di tutti i cittadini di Loreto e la Croce Rossa. Poi ecco i team vaccinali che si stanno adoperando, vaccinando diciamo in pratica tutti i giorni, quindi ecco un momento di massimo impegno. Per quanto riguarda la situazione contagi, il coronavirus in questa terza ondata per ora sta risparmiando il comune di Loreto, a differenza dei paesi limitrofi dove la situazione è sotto controllo ma viene costantemente monitorata dalla Asne di Pescara. Sul comune di Loreto Brutino abbiamo 27-28 casi attivi di cui un anziano ospedalizzato. I cittadini stanno rispettando abbastanza il DPCM, io invito tutti i giorni comunque ad adottare tutte le raccomandazioni che ormai da un anno si vanno facendo. Una dose di buona fortuna occorre, speriamo che il trend resti così. Quindi adesso abbiamo in questa settimana di nuovo le scuole chiuse e quindi cerchiamo un po' di contenere il contagio. C'è possibilità di vedere ancora una volta sempre all'interno di questo palatenda uno screening di massa? Beh certo, al momento non c'è estremo bisogno, stiamo vedendo i dati e quindi allorché ne ravvisiamo il bisogno sicuramente saremo disponibili a farlo. Oltre ad essere primo cittadino, Starinieri è medico di base nel suo paese e parla della possibilità di un accordo tra Regione e medici di famiglia per la somministrazione dei vaccini. Sì, parlo spesso anche con i colleghi, siamo in attesa dell'accordo tra la Regione e i nostri sindacati per vedere come saremo coinvolti. Anche se riceviamo telefonate o stiamo riempiendo moduli, stiamo facendo anche prenotazioni, quindi di fatto siamo coinvolti in questa pandemia e con un massimo impegno da parte di tutti.